Una tradizione che coinvolge la piccola comunità di Montelongo e richiama in tanti anche dai paesi limitrofi. Una lunga storia, la fede e la religiosità popolare diffuse in ogni angolo del territorio che portano persone di ogni età a svegliarsi in piena notte per rinnovare il rito delle pagnottelle dell'Immacolata. Il pane, preparato dalle famiglie e dal forno del paese, viene benedetto al termine della Messa della Sera del 7 dicembre celebrata dal parroco Don Giovanni di Cursi. Le ceste vengono poi portate nelle case in attesa della distribuzione che inizia dalle 4 del mattino. Le famiglie più agiate una volta facevano in casa il giorno prima dell'Immacolata le pagnottelle per darle alle persone bisognose e non solo alle persone del posto ma venivano anche dai paesi del circondario alle ore proprio preste del mattino, verso le 3 e le 4 e lo ricordo con molta chiarezza questo fatto perché mia madre ha sempre portato avanti questa tradizione e quindi sin dalle prime ore del mattino la gente si recava per chiedere il pane. Poi si sono aggiunte anche altre caratteristiche nel senso che qualche famiglia ha fatto questa tradizione come per esempio io la condino come segno di devozione, di una grazia particolare verso la Madonna. Un appuntamento che si rinnova e unisce le generazioni rinnovando l'identità di un piccolo centro e il senso di appartenenza a un territorio che custodisce un patrimonio di risorse. Comunicare, distribuire, ricevere questi pani confezionati da loro significa che è un gesto di fraternità, di comunione tra di loro. Ma certamente nasce sempre l'origine di questa festa dalla solennità, dell'immacolata concezione di Maria. La tradizione è andata avanti, rispetto agli anni passati non è cambiato nulla, l'unica cosa è meno gente perché siamo diminuite come popolazione. Però lo spirito, la tradizione, la voglia è la stessa, anzi bisogna riconoscere a questi ragazzi della Prologue Non che hanno cercato di ravvivare la tradizione.